Buongiorno bimbi e benvenuti. Continuiamo con un'altra lezione di storia, con il bellissimo argomento del tempo. Ho pensato per voi di iniziare con una bella poesia, ve la leggo. Il tempo passa e va, tic tac, tic tac. Un secondo, un minuto, un'ora. La sua corsa continua ancora. Sull'orologio leggi l'orario. I giorni conti sul calendario. Una settimana, un mese, un anno. Il tempo corre senza mai l'affanno. Tic tac, tic tac. Dove corre? Chi lo sa? Questa bella poesia è stata scritta dal suo autore, che è Argilli. È scritto qui sotto. Io ho chiesto il permesso al signor orologio di presentarvi oggi la sua famiglia. E quindi eccola qui, la famiglia del signor orologio. Vediamo un po'. La nonna è una signora alta e magra. Si chiama orologio a pendolo. Ve lo faccio vedere. Ho trovato per voi un breve video. come vedete qui sotto c'è il pendolo che dondola a ritmo dei secondi e li scandisce. Qui sopra invece si vede l'ora, si legge l'ora. Suo nonno è un piccolo signore con la voce da uccello. Si chiama orologio a cucù. Quando segna l'ora esatta, esce il cucù e canta. Ve lo faccio vedere. Io trovo che sia bellissimo e anche molto divertente. Vediamo poi chi c'è. La bisnonna del signor orologio è semplice ma elegante. È la clessidra. Eccola qua, la bisnonna. Vediamo. guardate quanto è bella. La clessidra fa scendere. La sabbia e così misura il tempo. Anche questo è un metodo per misurare il tempo. Beh, il signor orologio ha anche una sorella, c'è da dire, che si chiama sveglia. Sono sicura che la conoscete. Quando dovete saltare giù dal letto per venire a scuola, la mettete anche voi. E qua c'è la sveglia, ma la conoscete. Questa è un po' vintage. È un po' vecchia. Per ultimo c'è il nipote del signor orologio, che è l'orologio da polso. È il più giovane della famiglia. Come tutti gli altri, è molto preciso. Forse ce l'avete anche voi, l'orologio da polso. È quello che quando si va in giro si può portare al polso e appunto serve per controllare l'ora. Adesso che abbiamo presentato tutta la famiglia del signor orologio, possiamo procedere a vedere quali sono gli oggetti del tempo. Ci sono due piccoli esercizietti qua sotto. Nel primo ci sono gli oggetti del tempo numerati, con il numerino vicino. Nel mezzo sono scritti tutti in disordine e voi dovrete trascriverli sul quaderno e poi metterci il numerino giusto dell'immagine che secondo voi è corretta. L'esercizio è ancora sotto. Ci sono delle frasette che descrivono gli oggetti del tempo e voi anche queste le trascriverete sul quaderno e ci metterete vicino il numerino che secondo voi corrisponde all'oggetto corretto. Io vi auguro un buon lavoro, spero sia tutto chiaro e altrimenti ovviamente mi chiedete e mi iscrivete. Io vi abbraccio, maestra Beatrice.